I carabinieri della stazione di Roma Gianicolense hanno arrestato un 46enne romano gravemente indiziato del reato di maltrattamenti nei confronti della madre che convive con lui. A seguito di una segnalazione giunta al 112, i carabinieri sono intervenuti presso la loro abitazione in viale di Valle Aurelia, dove hanno raccolto la denuncia della vittima, la quale ha riferito che il figlio già in passato avrebbe avuto atteggiamenti violenti nei suoi confronti e che stavolta avrebbe iniziato a minacciarla per poi picchiarla stringendole le mani al collo. L'indagato è stato arrestato e accompagnato nel carcere di Regina Celi. Il Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e disposto per lui la misura cautelare del divieto d'avvicinamento con applicazione del braccialetto elettronico.